Sul fronte dello sviluppo è la novità dell'anno prossimo. A partire infatti dal primo gennaio, per effetto del Decreto Sud, le attuali otto zone economiche speciali, cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, confluiranno in una ZAS unica per il mezzogiorno. Quindi niente più commissari per l'attuazione, ma una sola cabina di regia a Roma, presieduta dal Ministro per gli Affari Europei, alla quale toccherà anche il compito di vigilare sull'utilizzo delle risorse finanziarie. Risorse che, bene o male, ci sono a patto di saperle intercettare e destinare agli interventi giusti. Uno dei settori che offrono maggiori possibilità, in virtù anche dei dettami di sostenibilità impartiti dall'Unione Europea, è quello della transizione ecologica. Coniugare gli incentivi e le agevolazioni fiscali con la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio è la sfida che le regioni si troveranno ad affrontare. L'Abruzzo si presenta già competitivo all'appuntamento con il futuro, ma anche consapevole che non è finita qui. Preparazione e aggiornamento, in maniera continuativa, sono necessari per stare al passo con le novità, senza perdere alcun treno, a cominciare da quello della programmazione 2021-2027. Una buona opportunità è quella offerta da Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila che, a Chieti, ha organizzato il convegno a tema ZES, Comunità Energetiche e Nuova Programmazione 2021-2027 per una politica regionale di sviluppo. Tra gli intervenuti, nella sede dell'Accademy for Me di Chieti, anche Camillo Saraullo, presidente Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila. Al primo gennaio, come sappiamo un pochino tutti, sarà una ZES unica allargata al mezzogiorno e sarà, diciamo, una grandissima opportunità anche per quelle località che al momento sono rimaste escluse dai benefici della ZES. Basta pensare che ci saranno dei crediti di imposta al 30% dell'agevolazione dal punto di vista dei permessi per realizzare nuovi fabbricati e quindi è una spinta, è un volano alla ripartenza dell'economia. È vero che negli ultimi periodi, diciamo, c'è stata una buona produzione del PIL nelle nostre zone, però, ecco, senza la continuità di incentivi, senza la continuità di nuove risorse, questi incentivi sono destinati, cioè questo sviluppo economico sarà destinato, insomma, a morire. Con la zona ZES unica è una grandissima opportunità che si avrà per i prossimi anni, insomma. Daniele Braccia, presidente della categoria Sostenibilità e Transizione Ecologica di Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila. Parliamo di Sostenibilità e Transizione Ecologica. A che punto siamo? Le nostre imprese ne hanno compreso opportunità, valore ed eventualmente anche difficoltà? Sì, soprattutto in questi ultimi due anni dove i costi energetici sono schizzati alle stelle e piccole e medie imprese hanno subito forti, ingenti danni e problemi economici. Addirittura ci sono state imprese che hanno dovuto chiudere le proprie attività. È impensabile, forse cose del genere sono accadute soltanto durante la guerra, molti anni fa. Abbiamo capito in questo momento l'importanza dell'indipendenza energetica, ovvero per il sistema Italia e soprattutto per le imprese italiane, essere indipendenti energeticamente e quindi anche sostenibili sotto forma ambientale e autoprodursi energia per sé, senza dipendere dalle oscillazioni del mercato, dalle forti speculazioni che oggi noi abbiamo sul mercato, è indispensabile per ripartire e per avere un futuro migliore. Qui oggi parliamo di soluzioni concrete dove grazie a nuovi incentivi che stanno arrivando sia nel settore energetico come comunità energetiche ma anche altri bandi che ci sono sotto forma di tutte le aziende, non solo artigiani, non solo industria ma anche aziende agricole, ci sono nuovi incentivi con la ZES, infatti parleremo anche di quello. C'è una fonte energetica privilegiata per le aziende oppure dipende dal territorio, dalla specificità dell'azienda stessa? Dipende dal territorio, una delle soluzioni che si colloca quasi bene per tutti sicuramente è il fotovoltaico, quindi produrre energia da fotovoltaico, poi c'è il biogassi, ci sono le biomasse, ci sono anche altre soluzioni, solare termico perché utilizza un consumo termico e nei prossimi anni ci sarà sicuramente una novità in tutto questo che è l'idrogeno che ad oggi non è ancora competitivo ma nei prossimi anni darà anche il suo grande supporto che ci aiuterà ad arrivare al 2050 all'abbattimento alla zero emissioni CO2 nell'aria. Secondo lei l'Abruzzo è pronto all'idrogeno oppure deve ancora correre? L'Abruzzo è pronto e mi permetto di dire che negli ultimi anni è stata una delle regioni un po' più virtuose che ha già sviluppato nuovi progetti, c'è un'imprenditoria locale importante, dinamica, che guarda bene il futuro, quindi sono molto fiducioso su questo. Una mattinata di utilità per le aziende perché possono scoprire molte cose attraverso una fase di lavoro articolare? Ci abbiamo tenuto in modo particolare ad organizzare questa mattinata di confronto su tematiche molto sensibili per il nostro mondo, per le imprese, quindi a partire dalla ZES, comunità energetiche, fino ad arrivare alla nuova programmazione 21-27 della regione Abruzzo, quindi che metterà in campo ingenti risorse per l'artigianato e non solo, quindi per tutto il sistema produttivo abruzzese. Un momento di confronto importante perché Confartigianato vuole esserci per affiancare e supportare le imprese in questa fase di transizione è importantissima perché si gioca il futuro della loro sopravvivenza. Non dimentichiamoci che il PNRR mette in campo risorse importanti, ma queste risorse vanno ben spese, soprattutto nell'interesse delle imprese. Su questo noi vogliamo affiancarle per far sì che vengano spese al meglio, in modo tale da migliorare l'efficienza e la capacità produttiva delle nostre imprese. Sulle comunità energetiche entreremo proprio nel merito delle comunità, anche con degli esempi pratici sulla fiscalità e sui vantaggi che le imprese possono ottenere dalla comunità energetica. Carmine Cipollone rappresenta la regione responsabile del servizio d'autorità di gestione unica dei fondi FESR e quindi si devono programmare poi le spese, tanto in famiglia quanto nella regione. Come si sceglie di programmare verso una direzione o verso l'altra? Oggi la direzione obbligata a proposito di energia e la sostenibilità. Diciamo che PNRR la programmazione nasce già con degli indirizzi, quindi quando abbiamo costruito la programmazione dei programmi europei, FESR e Fondo Europeo Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo abbiamo dovuto seguire comunque le indicazioni che ci sono state fornite dalla Commissione Europea. In questo contesto ciò che era importante è che non ci fosse sovrapposizione di programmazione, cioè che ci fossero interventi diversi o complementari tra PNRR, risorse comunitarie, risorse nazionali e risorse regionali. Quindi la scelta è stata un po' decisa sulla base di quello che è innanzitutto quelle che sono le strategie del PNRR e poi nell'ambito della regione la programmazione è stata complementare a quello che sono state le scelte del PNRR. In tema di energetico e di comunità energetiche la scelta principale è caduta sul PNRR, quindi noi come regione siamo un pochino alla finestra nel senso che procederemo ad integrare ove necessario la programmazione del PNRR con le nostre risorse. C'è il rischio e come lo combattete che si creino settori più appetibili e quindi dei doppioni per così dire e settori invece meno frequentati ma che avrebbero delle potenzialità? Questo è stato una delle prescrizioni nella costruzione dei programmi, cioè quello di monitorare ciò che veniva fatto sugli altri programmi, sugli interventi nei vari settori per fare in modo che la nostra programmazione andasse a riempire i vuoti e non a sovrapporsi con gli altri. Quindi c'è stata un'attività all'interno della regione, un coordinamento fra i vari dipartimenti e quindi la scelta degli interventi che si mettono sui programmi comunitari è comunque alternativa o complementare a quella del PNRR. Commissario, intanto subito la novità, quello che succede dal primo gennaio. Io le chiedo il passaggio dell'Abruzzo configurato in una ZES molto più ampia, quindi con anche delle regioni che possono competere in qualche modo o si riuscirà a trovare uno spazio? Perché poi sull'Abruzzo c'è un po' sempre si sconta questo peccato di non essere, una volta c'era l'obiettivo 1 e l'obiettivo 2, di non essere nell'uno o nell'altro, di non essere troppo sud, di non essere neanche troppo nord, di essere un centro che non sa bene dove andare. Beh, diciamo il tema è interessante e meriterebbe un approfondimento diverso, perché io poi sono un fautore di una grande area centrale che consenta di fare sistema con le obiettive sinergie, l'esempio più semplice è la regione Abruzzo e regioni in transizione, come la regione Marche e la regione Umbria. Alcune aree del Lazio in particolare, l'area retroportuali, sono ZLS, che sarebbe una versione diversa nelle aree industriali di quelle che sono le zone economiche speciali, oggi, ZS unica, dal primo gennaio, non da oggi, perché fino alla fine dell'anno, ricordo, rimane esattamente la situazione attuale, consentirebbero, forse tornando all'area centrale, di fare un sistema sinergico. Io penso all'asse anche tra Tirreno e Adriatico, che passa per la ferrovia, ma anche per le autostrade, quella per andare al porto di Civitavecchia, e poi quella che porta alle autostrade a 24-25. C'è il discorso delle assi portanti che riguardano tutto l'Adriatico, grazie anche alla collaborazione che c'è tra le regioni Abruzzo, Molise e Puglia, si è creato un ulteriore rafforzamento di questo asse, che riguarda anche i settori produttivi, penso all'automotive, ma non solo, e l'asse, diciamo, TNT, finalmente è diventata una realtà e sarà approvata entro il 31 dicembre, anzi, deve essere approvata entro il 31 dicembre, consentirà, detto male, di arrivare dall'area nord-est del nostro paese, quindi Trieste-Porto principale, fino a scendere dopo Bari al porto di Otranto. E noi avremmo in questa congiunzione dell'area Adriatico-asse Adriatica, con la ferrovia, oltre che il mare, l'economia del mare molto presente, perché ho parlato non a caso di porti, potremmo essere centrali in questo, sia in termini di logistica, sia in termini di capacità di trasferimento di persone e anche dal punto di vista turistico. Quindi, secondo me, questa asse centro-settentrionale che trova l'Abruzzo a dirà di tale chiacchiere, penso all'altro TNT, che è quello che parte da Barcellona, Civitavecchia, Ortona, Ploce, che significa arrivare in Croazia partendo dalla Spagna, e quell'altra asse che va dal nord al sud, a mio avviso noi diventiamo una crocevia essenziale dal punto di vista della logistica per le merci. Detto questo, dal primo gennaio, da questo punto di vista non cambia nulla, cambia semplicemente che la nostra particolarità di essere i primi del sud e gli ultimi della serie A, insomma, per fare un esempio calcistico, che non è corretto perché le cose sono più complesse, però rende l'idea del fatto di questo nostro essere di più, quindi noi abbiamo meno credo d'imposta, abbiamo una limitazione fiscale, per esempio rispetto alle altre regioni del sud, gli investimenti che saranno attivabili dal punto di vista procedurale riguardano tutti i comuni abruzzesi, nessuno escluso. Gli investimenti che hanno a che fare con richieste di credo d'imposta, che come ricordo le grandi imprese già oggi presenti, non hanno diritto credo d'imposta se ampliano i propri stabilimenti, ma hanno diritto alle semplificazioni amministrative, anche comuni che oggi non sono zesse, quindi non sono particellati, definiti quantitativamente per le aree di riferimento. Bene, queste due cose hanno ancora una volta diviso il territorio tra 80 comuni più due, che sono quelli di aiuti di Stato affinitario regionali, cioè il trattato fondativo e il regolamento comunitario competente, che ancora del 2014 non è stato modificato, che limita sia la quantità sia le aree, perché noi abbiamo un reddito pro capite che è tra il 75 e il 90% del reddito comunitario, quindi purtroppo non siamo sotto il 75% come le altre regioni del sud. Detto questo significa che sono 82 comuni su 305 che hanno diritto agli agevolazioni fiscali, mentre tutti e 305 avranno diritto alle agevolazioni amministrative. Dunque, come abbiamo sentito più volte, dal 1 gennaio 2024 la ZES cambia pelle e diventa ZES unica per il mezzogiorno. Questa novità ha suscitato anche qualche polemica, in particolare c'è chi teme un rischio di accentramento capitolino e quindi politico. Altri invece ritengono che sia una vera e propria occasione imperdibile per il sud Italia. Il quesito è stato posto anche al sottosegretario di Stato e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto presente al convegno di Confartigianato. Riteniamo che la ZES unica sia una opportunità, una opportunità anche per la regione Abruzzo in quanto la ZES era limitata soltanto a un numero molto limitato di comuni. Invece ora è una ZES estesa a tutto il territorio della regione e quindi acquisendo tutti quelli che sono i benefici che comporta una zona speciale, economica speciale. Quello che posso dire è sì, forse la governance, cambia la governance, ma è una governance centralizzata perché c'è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma questo non significa che invece sia una cosa positiva nell'ottica dell'unitarietà e del rilancio del Mezzogiorno tutto. La regione Abruzzo è una regione che si muove molto bene soprattutto nell'ottica dell'utilizzo di quelli che sono i fondi comunitari e quindi anche in questa programmazione che come lei ha anticipato rappresenta un'opportunità importante si sta andando per la strada giusta. Grazie a tutti.